Oggi parleremo di calcolosi della Colecissi con il professor Stefano Arceri, tra qualche istante. Oggi parleremo di calcolosi della Colecissi con il professor Stefano Arceri, tra qualche istante. Oggi parleremo di calcolosi della Colecissi con il professor Stefano Arceri, tra qualche istante. E' una patologia molto frequente, come dicevo, e colpisce il 10-15% della popolazione adulta. E questa, diciamo, incidenza, questa caratteristica aumenta con l'età. E' chiaro che dipende da tutta una serie di situazioni, di predisposizioni, che adesso Francesca ci dirà. Esatto. Dunque, una delle prime, diciamo, predisposizioni è proprio la familiarità. Perché chi ha avuto un parente che ha sofferto di questa patologia, molto probabilmente, in vita sua, svilupperà una familiarità con la calcolosi della Colecissi. In più, abbiamo anche il digiuno prolungato e la rapida perdita di peso. Quindi queste diete che si fanno repentine per perdere peso e, diciamo, digiuni prolungati. Non vanno bene. Non vanno assolutamente bene. E poi spiegheremo perché. Esatto. Lo spiegherò con attenzione. Perché il digiuno prolungato è dannoso tanto quanto quelle persone che mangiano in modo sbilanciato. Infatti, l'altra causa è l'obesità, all'inverso. Inoltre, un'altra causa è la sedentarietà. Anche la gravidanza può essere una delle cause, come i farmaci estroprogestinici, ovvero la pillola anticoncezionale, e anche, infine, una dieta ricca di grassi e colesterolo e prive e povera di fibre, quindi di frutta e di verdura. Vogliamo andare a vedere ogni punto un po' più nello specifico, partendo dalla familiarità? Perché no? Allora, chi ha un familiare di primo grado che è già stato operato, o comunque sa di avere una calcolosia colegisti, deve sapere che ha una predisposizione maggiore, una frequenza maggiore, di avere anch'esso questa stessa malattia. Così come le donne, ecco perché le donne sono più, diciamo, predisposte a questa malattia, sia per problemi della gravidanza, che non è la gravidanza in se stessa, cioè il concepimento, è il problema dello sbilanciamento delle modificazioni ormonali che avvengono durante la gravidanza, così come le terapie estroprogestiniche, come vi ha detto Francesca, cioè la pillola anticoncezionale, per essere più semplici possibili, possono predisporre maggiormente a questa malattia. Poi l'alimentazione, un'alimentazione ricca di grassi, fa sì che venga prodotta più bile, producendo più bile questa bile arriva lì, dove la bile si va a depositare. Francesca vi doveva dire all'inizio un po' che cosa si intende per calcolosia colegisti. Esatto, si intende la presenza di uno o più calcoli di varia grandezza nel lume dell'organo. Esatto. Facevi una distinzione prima in radio tra i calcoli grandi e i calcoli piccoli. Esatto, perché noi veniamo da Radio Italia anni Sessanta, dove trasmettiamo in diretta alle 12.45, qui però per Roma e provincia, mentre adesso siamo su Facebook, sulla pagina di Capire per Prevenire, e siamo in tutta Italia, in tutto il mondo in realtà. Comunque, che cosa dicevamo in radio? Dicevamo che la vescichetta biliare, che è la nostra colegisti, si chiama anche vescichetta biliare, è deputata al deposito, cioè la bile che viene prodotta dal fegato e serve ad emulsionare i grassi, cioè a digerire i grassi, prodotta dal fegato, va all'interno di questa vescichetta, di questa piccola sacchetta che sta proprio sotto al fegato e va lì a depositarsi. Quando noi mangiamo dei cibi grassi, dei fritti per intenderci o qualcosa, questa vescichetta, questa colegisti che fa, si spreme, si comprime e il suo contenuto, la bile, viene mandata nel tubo digerente, esattamente nel duodeno, che è quel tratto dell'intestino che viene subito dopo il fegato. E chi è che dà il comando alla colegisti di spremersi? Il comando viene dato dal cervello, come tutto quanto, il cervello se ne accorge nel momento in cui noi mangiamo, lo stomaco si riempie di cibo e automaticamente il cervello dice alla colegisti, guarda, stai attenta perché tra qualche istante il cibo passa in duodeno e manda bile perché è importante per emulsionare, per digerire quello che stiamo mangiando. Che cosa succede? Ed è quello che dicevamo all'inizio. Che è vero che chi mangia cibi grassi, chi comunque ha un'alimentazione sbilanciata, produce o ha la tendenza a produrre più calcoli che non sono altre che delle concrezioni, degli agglomerati di alcune sostanze, in questo caso il colesterolo, per cui sono calcoli in linea di massima di colesterina. Ma è altrettanto vero, se non peggio, che il digiuno prolungato fa tendenzialmente produrre più calcoli, come? In un modo molto semplice. Non mangiando, facendo quelle diete in cui non si mangia per un periodo, anche per un paio di giorni, di due o tre giorni, cioè il digiuno prolungato, comporta che la bile non si spreme più, cioè non getta più il suo contenuto nell'intestino. Perché? Perché non è necessario, non c'è nulla da digerire, perché? Perché si è digiuni. E allora che succede? Che questo liquame, questo liquido, la bile, che è dentro l'acqua le cisti, si va a depositare sul fondo, per cui i calcoli, quello che si va a depositare sul fondo, si va a riunire e automaticamente si vanno a formare questi calcoli. Ma dei calcoli, Francesca, qual è il calcolo più pericoloso? Sicuramente il calcolo più piccolo perché rimane, diciamo, impigliato in questa sorta, diciamo, di budello, mentre invece il calcolo grande è un po' balla. Certo, sentire parlare di budello, da te che fai le dirette con me, ormai da un anno è brutto, comunque nell'ambito dell'intestino di questa vescichetta biliare, certamente non va bene. Allora, i calcoli piccolini sono più pericolosi, Francesca, lo dicevamo anche prima, perché? Perché questi calcoli piccolini possono andarsi a incuneare in quella zona in cui la vescichetta si va a riunire e va a formare un piccolo dotto, che si chiama dotto cistico, ma a voi interessa poco. Questo dotto, che poi è il tramite, il condotto che porterà la bile dalla vescichetta biliare nel tubo digerente, può essere chiuso, può essere occluso da un calcolo piccolo. È chiaro che un calcolo grande difficilmente andrà a ostruire questo dotto, è più che altro il calcolo piccolo che crea questo. Per cui l'alimentazione sbagliata, il digiuno prolungato e via dicendo, sono tutti fattori predisponenti. Quali sono i sintomi? Quali sono? Com'è che uno si accorge di avere una calcolosia colicista? E non è molto semplice accorgersene, perché l'80% dei pazienti che soffrono di questa patologia sono asintomatici, ovvero non presentano alcun disturbo. Nei pazienti invece sintomatici ci possono essere alcuni disturbi, ma piuttosto lievi, che possono essere anche scambiati per altre patologie iniziali. Ad esempio abbiamo una difficoltà della digestione, oppure un peso post-prandiale, ovvero dopo pranzo e dopo cena sentire quella sensazione di peso sullo stomaco, di cibo non digerito, di una sensazione proprio di fastidio, diciamo, dopo aver mangiato. E poi, non da ultimo, la nausea. Chi soffre di nausea dovrebbe, appunto, rivolgersi al medico e capire se questa nausea può essere correlata, appunto, ai calcoli della colecisti. Fino, ovviamente, al sintomo, diciamo, finale, che è quello, diciamo, della fase acuta, che è la colica biliare, che è molto dolorosa, è vero? Molto fastidiosa. Esatto. Ed è quella che poi determina la diagnosi finale. Ma prima di arrivare a questa... Esatto. Prima di arrivare alla vera e propria colica biliare, dovete sapere che ci sono questi sintomi vaghi, per cui non si ha il dolore, non si ha la colica, che, credetemi, sotto colica biliare i dolori sono forti, si sentono, si vanno a ripercuotere sulla spalla, si ripercuotono, c'è delle irradiazioni veramente importanti, tanto che si richiede proprio il ricovero in ospedale, si sta talmente male che si chiede il ricovero in ospedale, così come la colica renale. Sì, sono due momenti eziopatogenetici estremamente dolorosi. Comunque, considerate che nella stragrande maggioranza dei casi la calcolosia colicisti passa in modo inosservato. Inosservato significa che nessuno se ne accorge, in realtà se ne potrebbe accorgere se si stesse attenti a quelli che sono i disturbi che avvengono dopo aver mangiato. Siccome la calcolosia colicisti si fa sentire quando si mangia, quando si mangia, quando si ha una difficoltà a digerire, quando c'è un po' di mal di testa, dopo aver mangiato, quando si ha questo senso di peso, come di questo mattone che sta sullo stomaco e non riesce a passare, ecco, in quel caso sarebbe opportuno, io vi consiglio, di andare dal medico di base e scambiare quattro parole con lui. Magari lui, sulla base di quello che voi gli raccontate, potrebbe supporre che si tratti di una calcolosi della colicisti e farvi fare un'ecografia. Ecografia che è l'esame più importante. Tra l'altro c'è un video che tra qualche minuto vi manderemo in diretta, qui così potrete vedere come si fa una ecografia addominale in conclusione del nostro intervento. Detto questo, non bisogna assolutamente arrivare allo stato acuto, per cui quando vi è questa sintomatologia, come vi ho detto, vaga, che non ha una sintomatologia specifica, ma così come ve l'ho spiegata, andate dal vostro medico di base, che è il vostro punto di riferimento, fatevi visitare, fatevi mettere una mano sulla pancia, perché lui può già cominciare ad avere un'idea che si tratti di una calcolosi della colicisti. Perché questo? Perché la calcolosi della colicisti, e sia una volta chiaro per tutti, deve essere trattata chirurgicamente, perché l'unica terapia valida, deve essere trattata quando si sta bene, non deve essere trattata quando si sta male, perché le complicanze in seguito all'intervento, durante un intervento chirurgico fatto in urgenza, cioè in uno stato di male colico, così si dice, è un intervento molto più impegnativo per il chirurgo, ma soprattutto è molto impegnativo anche per il paziente. Per cui mi raccomando, andate dal medico quando state bene, non quando state male. Detto questo, passiamo alla diagnosi. Come vi diceva Francesca, la diagnosi... La diagnosi può essere clinica, ovvero la visita medica, come avevo canto detto, quindi con la palpazione. Clinica significa che è la visita manuale del medico, ma soprattutto, Francesca, è la visita basata sul colloquio, sullo scambiare, esatto, perché il medico sicuramente vi savrà porre quelle domande utili per poter aggiungere a questa supposizione diagnostica. Poi ci sono degli esami ematici, anzi se ci vuoi dire se c'è qualche esame specifico da poter richiedere. Gli esami sono più banali, perché sono un emocromo semplice, perché uno vede se c'è un rialzo di alcune cellule, in questo caso i bianchi, per vedere se c'è uno stato infettivo in atto, e poi si chiede la bilirubinemia. Altri esami, ma non sono cose che vi riguardano. Sarà il medico a dirvi quali esami del sangue fare, ma soprattutto... E poi per finire l'ecografia, che adesso andremo anche a vedere praticamente, che è un esame assolutamente non invasivo, che possono fare tutti in qualsiasi momento, e che determina con grande precisione effettivamente se esistono questi calcoli all'interno della colecisti. Ecco, allora facciamo una cosa Angelo, facciamo vedere il video dell'ecografia addominale, che è un esame importantissimo, dopodiché torniamo in diretta, daremo le nostre conclusioni, i nostri saluti, se voi avete domande da fare nel frattempo, scrivetele su Facebook, perché noi le leggiamo e cerchiamo di darvi una risposta contestualmente alla nostra diretta. Vai pure con la diretta. L'ecografia dell'addome è un esame diagnostico che utilizza delle onde meccaniche per creare immagini delle strutture addominali, mediante un apparecchio detto ecografo, dotato di un trasduttore o sonda e di uno schermo dove compariranno le immagini. Si tratta di una procedura sicura, non invasiva e che non utilizza radiazioni. Con la stessa sonda potrà essere effettuato un esame color doppler. Si tratta di un esame utilizzato per aiutare il medico ad diagnosticare una patologia addominale, come un dolore o una distensione addominale, e consente di studiare i regni, il fegato, la colecisti, i dotti biliari, il pancreas, la milsa e la orta addominale. Prima di effettuare un'ecografia dell'addome, è consigliabile consumare un pasto leggero privo di grassi saturi la sera prima della procedura e successivamente restare a digiuno. Questo consentirà di ridurre il meteorismo intestinale e far distendere la colecisti, in modo da rendere più agevole lo studio dei visceri addominali. Per effettuare l'esame, il medico inviterà il paziente a stendersi su di un lettino apposito, a faccia in su. Dopo essersi posizionati sul lettino, il medico ecografista applicherà un gel a base d'acqua sulla zona da esaminare. Il gel migliorerà la qualità delle immagini eliminando eventuali bolle d'aria tra la cute e il trasduttore. Il trasduttore sarà quindi poggiato delicatamente sull'area da studiare e mosso avanti e indietro fino all'ottenimento delle immagini desiderate. Durante la procedura normalmente non si avverte alcun fastidio, anche se si può avvertire un senso di tensione se il trasduttore viene poggiato su di un'area indolenzita. Se l'ecografista effettuerà un esame color dopple, si potranno avvertire dei rumori prodotti dalla macchina. Una volta completato l'esame, il gel sarà rimosso dalla cute. Si tratta comunque di una sostanza che evapora facilmente, non lascia residui e non macchia i vestiti. Di solito l'esame dura non più di 30 minuti. Il medico ecografista, una volta ottenute le immagini, le analizzerà in modo dettagliato e scriverà le sue conclusioni su di un referto, ovvero un foglio o un file contenente la diagnosi formulata o la descrizione delle immagini ottenute. Il referto sarà sempre firmato dal medico che ha effettuato l'esame. Aspetta, ok. Perfetto, bravissimo Angelo. Salutiamo Anna Maria Rossi che ci ha scritto e ci fa i complimenti del nostro lavoro. Noi facciamo informazione medica la più semplice possibile. Cerchiamo di spiegare con parole semplici delle cose importanti, come l'argomento di oggi che è la calcolosia colicisti. Se avete bisogno di sapere qualcosa di più, di fare delle domande relative anche a dei problemi vostri, potete scrivere da adesso quando volete, perché tanto sono immortali, stanno sempre su Facebook queste dirette che noi facciamo, sulla calcolosia colicisti e io o qualcuno dei miei collaboratori sicuramente vi risponderemo. Con oggi abbiamo concluso la diretta sul capitolo della calcolosia colicistica, è un capitolo importantissimo, come avete visto sono un pochino più le donne a soffrire, il 10-15% della popolazione per cui è una patologia estremamente frequente, veramente diffusa. Noi ci rivediamo, come di consueti, innanzitutto saluto e ringrazio come al solito Francesca per la sua preziosa collaborazione, per l'aiuto che mi dà, perché comunque è complicato gestire tutto quanto insieme. Ma te sei talmente chiaro che... Ma non è semplice, mi distrarrei. Sei molto chiaro, come medico sei molto chiaro. E questo mi fa piacere. Questo è molto importante. Questo mi fa piacere. Allora l'appuntamento è per martedì prossimo, martedì prossimo sarà mio ospite il dottor Massimo Pirelli, che è un odontoiatra che si occupa anche, ma soprattutto, di gnatologia. La gnatologia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa dell'articolazione della bocca, cioè dell'occlusione della bocca. Ecco, ci sono tutte una serie di malocclusioni, quelle che adesso va molto di moda, quelle malocclusioni che si correggono con il bite, con quel parecchietto trasparente che adesso va tanto di moda. Ecco, molte volte è sbagliatissimo usare quel tipo di correttore se non si va da uno specialista, cioè da un ogniatologo, cioè che si interessa proprio di questo. Ecco, il dottor Pirelli verrà per cercare di mettere chiarezza in questa patologia importantissima perché la malocclusione dentale, dovete sapere, che può anche stimolare, suscitare tutta un'altra serie di disturbi, di sintomi come può essere la cefalea, disturbi dell'equilibrio, della postura, per cui rivedremo insieme al dottor Pirelli. Appuntamento martedì prossimo alle ore 14 qua su Facebook, sulla pagina di Capire per Prevenire e non mi resta altro che salutarvi e appuntamento a martedì prossimo. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.